Non si può amare Dio che ha proprie spese. Perché imitare lo struzzo che nasconde la testa sottoterra? Sii coraggioso e affronta la vita a testa alta. Restando riparati al sicuro, non si dischia nulla, ma in compenso si perde tutto. Non devi avere paura, perché Dio è amore. Se Dio ti ama dal momento che Lui è Padre amoroso, non smetterà di aiutarti.